ecco 24 ore dopo l'incendio di ieri il ruogo tossico c'è ancora una puzza inenarrabile puzza di morte di morte tutto nero rifiuti pericolosi e speciali bruciati c'è ancora del fumo e c'è ancora una puzza indescrivibile tutto annerito dal fumo rifiuti bruciato rifiuti bruciati c'è puzza di morte qui in questo luogo dove dovrebbe esserci semplicemente il parco metropolitano delle colline di napoli invece questa terra brucia e questa terra continua ad ammalarsi e a morire